Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, qui è un Velox, oggi sono qui incredibilmente su Code 4 Remastered per portarvi un bel sniping in live, era da un po' che me lo chiedevate, effettivamente era da un po' che non ne portavo uno, quindi ho colto appunto l'occasione per registrarne uno, questo qua appunto sfruttando anche il fatto che effettivamente ieri ho cambiato connessione, quindi ho detto vabbè Andiamo a fare sto sniping in live, anche se in realtà poi non è che giocare con i cecchini ti faccia capire effettivamente quanto la tua connessione si è migliorata, perché come vi ho già detto più volte, diciamo che il fatto che tu faci hitmarker col cecchino non è collegata a problemi di connessione, cioè quando tu fai hitmarker vuol dire che la connessione sta andando bene perché il colpo è stato registrato, quindi diciamo sono due cose completamente staccate, l'unica cosa che può magari se vuoi proprio essere, come si può dire, vuoi proprio arrampicarti sui specchi puoi dire che sì ho fatto hitmarker perché sto laggando, perché ho mirato in testa, ma siccome sto laggando il colpo mi è stato registrato Nelle gambe perché magari il nemico che cazzo ne so, poi è assaltato, cazzate insomma, però non c'entra nulla, però comunque si può un po' capire se la connessione va un po' meglio perché il colpo entra istantaneamente, cioè se voi giocate da host e poi giocate in pubblica, notate un po' di millisecondi di ritardo tra hitmarker o no, capito? Non so se mi spiego, però comunque col cecchino e lea di massimo è difficile accorgere, comunque ho fatto chiaramente un po' di spari e per vedere un pochettino come mi andava, per scaldarmi anche perché sapete che io col cecchino sono un po'... Quello si è fatta una triple feed e io qui a fare nulla proprio, a guardare, nemmeno a guardare perché... Oddio no, oddio no, oddio no, in fondo col cecchino fermi, no vabbè, andate meglio vedere un po', aspetta un po', io sono proprio negato raga, non riesco a prenderlo, e poi mi dà l'impressione di averlo colpito questo qua, oddio, oddio... Muori Mi ho fatto un pezzaccio qua Carichiamo Stordente, guarda che miss Oddio No, 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 no Altra stordente, devo caricare raga Aspetta un po', aspetta un po' Qua c'è il mondo No, 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 il raid addosso raga No Ok, elicottero, godo Mamma mia Mamma mia Oddio Oddio Oh, raga, ma che cazzo è? Stanno quittando No, raga, mi ha ucciso Porca puttana cosa ho fatto Porca puttana Là c'era tipo una feed se ero bra... se fossi stato bravo... se ero bravo Se fossi stato bravo avrei fatto una cazzo di feed Con la gente tutta lei... no, con collatera e cose così ma... Sono io Salve, quindi... Chiaramente non si fa nulla Comunque veramente i colpi entrano in una velocità Impressionante Oh, non sono piaciuto proprio a... A una cosa del genere Quindi mi piace proprio il feeling Che c'è Guardi li push allo spawn, raga, sono qua Eh, quello è fermo là Che schifo, però Raga, ma... Sta parita è proprio... Spawn kill bestiale Hitmarker Poi mi spieghi come faccio forti... E poi mi ammazza Eh, è giusto Perché io li faccio hitmarker e lui mi deve shottare Vaffanculo Come di entrare il colpo a questo Juggernaut Minchia Che rosi quando mi fanno questi... Madonna mia 17.4 comunque Preso 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 Però quello sarebbe là sopra secondo me Aspetta che ti tiro E uno a fianco Beh, lo sapevo Pensavo non mi avesse visto Ho tenuto una granata però Potrei fare la kill No Ok, è una spawn kill malata sta partita Solo una spawn kill Pura Un nemico E ce l'ho dietro Ma gli alleati dove cazzo sono? Che la gente passa così Madonna mia Cioè, ma io gli altri Dove cazzo sono? Preso Cattiva sta spawn kill È molto molto cattiva Arroganza pura proprio Morti tutti Abbiamo rotto lo spawn Let's go Che figo che giocare così con lo sniper a cazzo Ragazzi, è rilassante Scherzo Non è per un cazzo rilassante Però ti diverti Ne ho uno dietro Fammi ricaricare un po' Ok, andiamo qua dietro Assordito Assordito Muori Ma questo è un nemico, no? Ok Granella Un 25.6 Muori Madonna Quel juggernaut Di merda Elicottolo Vabbè raga Oggi siamo posseduti Muoglio soltanto perché Per cose del genere Non mi hanno mai ucciso Mi sei in un frontale Credo Allucinante raga Allucinante sta partita Veramente Qua c'è qualcuno Oh, no Dove scavare dei nemici? Sto cazzo di juggernaut Non ne posso più Madonna Erei da ero lì raga Ok Vediamo la granata lì Però usciranno tutti da qui Guardali, guardali, guardali Madonna raga Ma sono tutti veri Ma vabbè Abbiamo fatto una verità Allucinante comunque Cristo Abbiamo fatto una Praticamente una feed Qualcosa di Incredibile Vabbè raga Spero avete apprezzato questo video Era un video un po' diverso 38 in deathmatch Not bad Lasciate un like E ci becchiamo alla prossima Bella raga